A Gorsiga ha mostrato che l'azienda fa l'unione a non per i temi importanti. I Gorsi mostrano ogni giorno la sua capacità a essere maduri politicamente per strappare ciò che fa la soglia in questo paese. Durante mesi e mesi si muoverà di soli in cavudio da domandarci che buono andate odia a fianco a noi. Cisimo bia di matracale, cisimo bia di corno e esonzione giudiziaria. Ogni, direi in dispensare che il paio di l'Ausanne ripilè si oviene di l'istame mobilizzazione. E' un po' di amore insensore di abarco. Avec la force di unità, noi obtiendrons l'applicazione del statuto di resident votato per i nostri. C'è un'euro che freinerà la speculazione per abbassare le prix di fonciere che permetterebbe al corso di se loggare a dei prix decensi. Avec la force di unità, noi obtiendrons l'applicazione del statuto di fiscale corso, lui anche votato per i nostri. Per questo biais, le corso per i meno impoli e soprattutto di impoli più justi, rinjecterà nella progetti del corso. Un corso di unità, che prevenne a Puffi ch'èità, anche la lotta dell'Assemblea. C'è un'euro di un paio di un paio di un'euro che permetterebbe di ritorno a zoro la mia cengra società.